Ci sono luoghi che rappresentano quanto di più alto è stato prodotto dal genere umano. Ci sono momenti in cui gli occhi di tutto il mondo si rivolgono a essi. In occasione del giubileo straordinario, Sky 3D e il centro televisivo Vaticano si uniscono in una nuova straordinaria produzione. Un film documentario che porterà in tutto il mondo la grandiosità, la bellezza, la meraviglia delle quattro basiliche papali di Roma. 1700 anni di storia, di arti, di cultura e spiritualità. Una visita eccezionale e unica per la ricchezza dei punti di vista inediti ed esclusivi. Su luoghi e opere che attraggono nel nostro paese milioni di persone da tutto il mondo. Un'esperienza incredibile da vivere in prima persona con tutta l'emozione del 3D. Un'esperienza incredibile da vivere in prima persona.